C'è una persona dentro che mi fa sì che ti saluto, c'è una persona dentro che mi fa sì che non c'è studo, c'è una persona dentro che mi fa dire sto bene e si fa stare assieme, c'è una persona dentro che mi fa stare dentro quando fa la pasta e ti chiama capoteco, c'è una persona dentro che non dice capo un cazzo, ma sorride al ragazzo. C'è una persona dentro che mi fa sì che ti saluto, c'è una persona dentro che mi fa sì che ti saluto, c'è una persona dentro che mi fa già?